Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Le imprese edili vantano un credito di circa 60 milioni di euro dalla regione per la ricostruzione post terremoto del 2002. Il presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro, ha promosso una protesta singolare acquistando spazi sui giornali locali per sensibilizzare la regione stessa a pagare prima di Natale il servizio di Giovanni Minicozzi. Il Natale è alle porte, ma per molti sarà ancora una ricorrenza mesta, grigia, misera. Migliaia di lavoratori in difficoltà che attendono da anni risposte dalla regione senza considerare il numero impressionante di molisani, oltre 100.000, che vivono nella povertà e nel disagio sociale. Poi ci sono le imprese che falliscono per crediti non riscossi dalle pubbliche amministrazioni. Il caso eclatante è rappresentato dalle imprese edili che vantano un credito di circa 60 milioni di euro dalla regione per la ricostruzione già realizzata a loro spese nel cratere sisimico delimitato dal terremoto del 2002. Addirittura l'ACEM ha messo in campo una protesta originale acquistando spazi sui giornali locali per sensibilizzare la regione a pagare prima di Natale. La situazione delle imprese, le imprese edili del Molise, è un po' complicata e un po' difficile ultimamente. Si lavora e si discute poco nella regione Molise. Il nostro è un appello affinché nelle prossime ore, nei prossimi giorni, si possano pagare le imprese che a loro volta hanno da pagare dipendenti e fornitori. Quanti sono i crediti che vantano rispetto alla regione per la ricostruzione post-sisma del 2002? Ma noi all'incirca con la ricostruzione abbiamo una produzione media mensile di 5 milioni di euro al mese, grossomodo. Quindi facendo il conto di un anno solo gli sono 60 milioni di euro. Le difficoltà che si hanno sono tante. Lei può immaginare il non riscuotare a Natale, quello che può provocare all'interno delle imprese, ma anche all'interno delle famiglie, degli operai e dei fornitori. È tutto complicato. Intanto la ricostruzione è ricominciata nel cratere sismico del 2002? Sì, noi bene o male qualcosa stiamo facendo, stiamo andando avanti, anche perché il sistema della rendicondazione che adesso è in piedi, che a nostro avviso non funziona perché non si possono prima eseguire i lavori, rendicondare, poi pagare, magari pagare quello precedente, non l'ultimo lavoro che si è fatto. Appunto dicevo che questo sistema non funziona e ne va messo su un altro che possa garantire il pagamento alle imprese in tempi celeri. Io non dico i 30 giorni, i 60 della comunità economica europea che ci obbliga a rispettare, ma comunque avere un tempo certo di due o tre mesi in maniera tale che l'impresa ci possa contare. Le imprese vantano altri crediti verso le pubbliche amministrazioni, oltre alla ricostruzione? Ci sono quei lavori fatti, quei lavori eseguiti, al cui è andata in perenzione, quindi se parliamo di tre, di quattro anni fa, che in una piccola parte sono stati pagati, ma ci sono ancora da pagare qualcosa come 6-7 milioni di euro, ripeto, di tre, quattro anni fa, e poi ci sono i lavori che la Regione oppure gli enti attuatori a cascata dalla Regione appaltano e che hanno ritardi di diversi mesi. Che risposte avete avuto dalla Regione? Ma fino adesso nessuna. Io mi auguro che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ci sia una presa di forza e sono convinto di questo, che il Presidente lo faccia in maniera tale da dare una mano alle imprese edili, che stanno dando tutto quello che hanno. Anche noi siamo certi che la sensibilità del Presidente Donato Toma consentirà alle imprese e ai loro dipendenti di trascorrere un Natale tranquillo. L'intervista rilasciata ieri dal subcommissario Ida Grossi a Telemolise circa il suo nuovo incarico sulla necessità di rendere efficiente il sistema sanitario del Molise è stata rilanciata anche da Lanza in campo nazionale. Nel merito dell'intervista ricordiamo che la dottoressa Grossi ha sottolineato la sua volontà di agire con determinazione, dialogando con tutti, ma anche la sua neutralità politica rispetto al governo giallo-verde. Non conosco nessuno, ha sottolineato. Non ho avuto ancora il piacere di conoscere il Ministro della Salute. Posso solo dire di aver lavorato con qualsiasi tipo di amministrazione. La mia è un'attività tecnica acquisita negli anni e sempre apprezzata. Intanto la Ministra della Salute Giulia Grillo è intervenuta al quarantesimo anniversario del Servizio Sanitario Nazionale spiegando che trasparenza e merito sono armi già a disposizione delle amministrazioni per nominare nella sanità persone di alto livello morale scientifico che spingano sull'acceleratore del cambiamento. Per questo, ha aggiunto la Ministra, i governatori siano alleati del Ministero per vincere la battaglia contro la corruzione e il malgoverno e per promuovere servizi migliori. Parliamo adesso di trasporto ferroviario perché Legambiente ha stilato la graduatoria delle dieci peggiori linee per pendolari dove il Molise figura all'ottavo posto. Anna Maria Di Matteo. Ancora un record negativo per il Molise. Stavolta far parlare ovviamente male di sé è il trasporto ferroviario. La tratta Campobasso-Roma figura infatti tra le dieci peggiori linee dei pendolari piazzandosi all'ottavo posto. A dirlo è Legambiente che ha stilato la graduatoria delle peggiori tratte ferroviarie d'Italia dove non poteva mancare il Molise con il collegamento tra il capoluogo di regione e la capitale. Tuttavia anche se le condizioni in cui sono costretti a viaggiare i pendolari restano pessime secondo Legambiente si assiste ad un leggero miglioramento soprattutto per quanto riguarda l'aumento del numero delle corse con dieci coppie di treni al giorno come avveniva nel 2010. La linea è lunga 244 chilometri ma il tratto che crea i maggiori problemi è quello compreso tra Campobasso e Roccaravindola di 75 chilometri. Una linea ancora binario unico e non elettrificata ed è proprio lungo questo tratto che si registrano le maggiori criticità con problemi di lentezza e inadeguatezza del servizio. Un esempio per tutti occorrono 53 minuti per collegare il capoluogo ad Isernia con i convogli che viaggiano ad una velocità di 55 chilometri orari su una linea che è sostanzialmente vuota. Ma oltre agli ormai cronici ritardi pendolari denunciano di viaggiare su treni vecchi carenti dal punto di vista dell'igiene con sedili rattoppati e con bagni sporchi e maleodoranti. In inverno oltre a patire questi disagi i viaggiatori sono costretti anche a battere i denti dal freddo perché il sistema di riscaldamento il più delle volte è malfunzionante. Problemi denunciati più e più volte dei passeggeri che però ad oggi non hanno ancora trovato una soluzione nonostante gli annunci di Trenitalia. La situazione, come conferma anche Legambiente, rimane critica e salire a bordo del treno Campo Basso Roma significa avventurarsi in un percorso ad ostacoli. Si sa forse quando si parte, ma non si sa quando si arriva. Il senatore Riccardo Nencini ha interrogato il governo sulla legge mille proroghe che ha eliminato in gran parte delle regioni i fondi nazionali per le tv locali. Nencini ha ricordato che la modifica è avvenuta tenendo conto dei dati a Auditel che privilegiano le grandi realtà e punisce quelle minori. Zittisce, ha scritto testualmente, il senatore, quelle più piccole come Molise e Valle d'Aosta. Nencini ha chiesto di sapere se nelle intenzioni del governo intervenire per correggere un tale vulnus a un fondamentale diritto costituzionale, alla conoscenza e alla libertà di espressione e come si intenda rivedere il provvedimento o comunque riequilibrarlo. Parliamo adesso di scuole sicure a Isernia con l'inaugurazione ufficiale del nuovo edificio del quartiere San Leucio che ospita la primaria della Don Bosco e la media Andrea di Isernia e di quello della San Pietro Celestino in località Acqua Sul Furea. Ce ne parla in questo servizio Sergio Di Vincenzo. Sventolidi, tricolori, balli, canti e tanto entusiasmo. Per la doppia inaugurazione ufficiale del nuovo polo scolastico di Via Umbria di quello della San Pietro Celestino in località Acqua Sul Furea, l'istituto comprensivo San Giovanni Bosco ha fatto le cose in grande. Un modo gioioso per sottolineare il grande obiettivo raggiunto, quello di mettere a disposizione dei ragazzi delle scuole davvero sicure. Ma questo, ha commentato il sindaco di Isernia da Pollonio, deve essere solo un punto di partenza. È un'opera pubblica importantissima, forse la più importante dell'ultimo ventennio, che mette a disposizione una struttura intanzitutto assolutamente sicura, ma poi funzionale, diciamo anche con un altissimo coefficiente di affidabilità sotto il profilo anche energetico, quindi noi insomma siamo soddisfatti per il lavoro che è stato fatto, peraltro in tempi molto ristretti. Per noi questo non deve essere considerato un punto di arrivo, è un punto di partenza importante, senza di questo non si riusciva neanche a partire sul discorso della sicurezza, ora dobbiamo completare questo lavoro. Ma ora c'è un problema da risolvere subito, ed è quello delle sette classi dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. I ragazzi fanno ancora lezioni a San Lazzaro tra mille disagi. Questioni burocratiche hanno rallentato l'iter per la messa in sicurezza dell'ex centro anziani, ma entro Natale i lavori inizieranno, ha assicurato il primo cittadino. Sì, assolutamente sì, finalmente sono stati consegnati i lavori da qualche giorno, quindi aspettiamo che l'impresa materialmente che sta studiando il progetto intervenga sul sito e possa partire. Il secondo taglio del nastro della giornata è in località Acqua Solfurea, nella struttura comunale che da qualche mese ospita gli alunni della San Pietro Celestino. Una sistemazione eccellente, ma ora tocca potenziare i trasporti, ha detto il dirigente scolastico di Sansa. Una struttura per la verità bellissima, con un bel verde, con un giardino, assolutamente idonea ad accogliere i nostri bambini, con un corpo docente all'altezza della situazione, all'altezza del compito. Io credo che per valorizzare quella struttura è necessario ora agire sul sistema dei trasporti scolastici. La rete dei trasporti scolastici è ormai antiquata, l'organizzazione degli scuolabus risale molti anni fa. Bisogna rimettere in gioco l'organizzazione del trasporto scolastico per tutte le scuole, perché non ha più senso una distribuzione degli scuolabus così come attualmente è. In merito alla chiusura della scuola Don Milani di Via Leopardi a Campobasso a causa della rottura di un tubo dell'impianto di riscaldamento, va precisato che a correzione di quanto detto nel servizio andato in onda ieri, il riscaldamento è alimentato a metano e non a gasolio e che i lavori di ristrutturazione sono costati meno di mezzo milione di euro. Resta ancora senza risposta invece la domanda sul mancato adeguamento energetico dell'immobile in base ai criteri stabiliti dalla legge in vigore. Sono passate l'unanimità nell'ultima seduta del Consiglio regionale le modifiche e le integrazioni alla legge regionale denominata a misura in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Soddisfatta la relatrice Paola Matteo, capogruppo di Orgoglio Molise, che ha lavorato alla proposta e al raggiungimento del risultato. Sentiamo. Il Consiglio regionale ha approvato nell'ultima seduta all'unanimità le modifiche e le integrazioni alla legge regionale del 2015 misure per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. La proposta ha spiegato la relatrice, la consigliera di Orgoglio Molise Paola Matteo, è nata dall'esigenza di adeguare il testo normativo a quanto sancito dalla legge nazionale ed europea. Le modifiche introdotte, ha detto, vogliono avere inoltre lo scopo di ampliare il raggio di tutela delle vittime di violenza alla luce anche del reato, di stalking e dei ricatti a sfondo sessuale. Paola Matteo, con il supporto dell'Ufficio di Consulenza Legislativa, ha predisposto un testo di sintesi delle due iniziative legislative che, ponendo a base l'articolato della Giunta regionale, ha integrato le disposizioni contenute nella proposta di legge del Consiglio. L'idea di introdurre lo stalking nasce dall'analisi dei dati Istat, sia a livello regionale sia nazionale, che mettono al primo posto la problematica tra le diverse violenze di genere. Anche perché in Molise, ha continuato la capogruppo di Orgoglio Molise, non esiste un osservatorio regionale. Anche per questo la necessità di modificare la legge, proprio per prevedere l'attivazione dell'osservatorio, che dovrà trattare i dati forniti dalla rete regionale antiviolenza, composta da questure, centri antiviolenza, pronto soccorso, case, rifugio, tribunale dei minori, rete che ha puntualizzato. Matteo, non si riunisce da tempo, di cui la richiesta a Toma di convocare subito il tavolo. Nel dettaglio, per prevenire il fenomeno dello stalking, sono promosse attività per potenziare la sicurezza di urne notturna e il controllo di aree a rischio e per diffondere informazioni sul territorio. È stato necessario modificare, ha detto ancora Paola Matteo, anche la normativa regionale per quanto riguarda i centri antiviolenza e le case di rifugio, conformandola a quanto disciplinato dall'intesa tra governo e regioni del 27 novembre 2014. L'attività dei centri antiviolenza riguarda colloqui telefonici di accoglienza, sostegno psicologico-informativi, creazione di gruppi di autoaiuto, orientamento al lavoro, affiancamento scolastico per i figli delle vittime di violenza. Per queste attività di formazione e per il reinserimento lavorativo, ma anche per i centri antiviolenza in fortissima difficoltà, la consigliera Matteo ha chiesto a Toma di stanziare più fondi. Inoltre le residenze, che assicurano ospitalità alle donne costrette ad allontanarsi dalla propria casa e denominate precedentemente dimore dei diritti, vengono ora definite case rifugio di primo e di secondo livello. Il servizio è gratuito per le donne residenti in Molise e per i loro figli. Sono modificate anche le competenze del tavolo di coordinamento regionale. Sono molto soddisfatta che il Consiglio regionale, senza distinzione di colori politici, ha votato all'unanimità, ha concluso Paola Matteo. Filomena Calenda, consigliera regionale della Lega, ha espresso soddisfazione per l'approvazione della proposta di modifica della legge sulle misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, presentata da Paola Matteo. Un carteggio, ha detto Calenda, che ha il merito di dotare la regione di strumenti più innovativi ed efficienti. La consigliera della Lega, inoltre, ha espresso gratitudine ai colleghi per aver approvato anche l'emendamento da lei presentato, attraverso il quale la regione recepisce le istanze di tutte le vittime di sfregge e danneggiamenti permanenti al volto. Gli esperti, ha spiegato, parlano in questi casi di una vera e propria morte civile della vittima, la quale ha bisogno anche di un supporto mirato alla riabilitazione e al reinserimento sociale a seguito del danno subito. È uno dei cardinali più importanti della Chiesa Cattolica, è lui che ha decretato la santità di Padre Pio e Papa Voitila. Si tratta di Angelo Amato, prefetto emerito della Congregazione dei Santi, è arrivato a Isernia per inaugurare l'anno accademico della scuola di teologia diretta da frate Nazario Vasciarelli. Ci racconta tutto Enzo Di Gaetano. Un incontro intenso, ricco di significati e di insegnamenti. Il nome l'ha preceduto, ma ascoltare la sua lexio magistralis ha dato l'idea dello spessore del personaggio. È venuto a Isernia il cardinale Angelo Amato, prefetto emerito della Congregazione dei Santi, che tradotto in parole povere. Vuol dire che è stato lui ad apporre le firme decisive per il processo di beatificazione degli ultimi Santi. Il cardinale Amato, presso l'aula magna dell'ex palazzo vescovile, ha svolto la lezione inaugurale della scuola di formazione teologica della diocesi di Isernia Venafro, diretta da Fran Nazario Vasciarelli. Al cardinale Amato, chiamato a un compito così importante per la Chiesa, abbiamo chiesto quali sono le caratteristiche della santità. I Santi sono importanti perché per definizione sono benefattori dell'umanità, perché introducono, immettono nella Chiesa, nella società, i germi del bene. I Santi fanno del bene e diffondono il bene. Ecco perché i fedeli sono molto affezionati ai Santi, li amano, li pregano, li imitano e pregano affinché loro intercedano per loro. I Santi sono degli eroi del bene, quindi fanno del bene, diffondono il bene, ricevono il male e restituiscono il bene. Per esempio i martiri vengono uccisi in odio e loro invece restituiscono l'amore, anzi il perdono dei loro uccisori. Per cui i Santi sono delle benedizioni per la società e per la Chiesa. Ecco perché i Santi non avranno mai un orizzonte negativo. Anche nei paesi molte volte difficili, i Santi portano una luce e un ardore di bene che fa bene, fa bene a tutti, amici e nemici. Molto soddisfatto dei risultati conseguiti dalla Scuola di Formazione Teologica della Diocesi, il Vescovo Cibotti ha parlato di un'occasione offerta a tutti, ai fedeli laici della Diocesi, per l'approfondimento della fede e della cultura religiosa. Il modo per aiutare tutti coloro che sono impegnati in ambito pastorale, catechesi o animazione o gruppi e movimenti, perché siano formati e abbiano quei riferimenti importanti sia da un punto di vista biblico e teologico che sostenga il loro cammino personale, ma anche la loro disponibilità e azione pastorale nelle varie comunità in cui si trovano. I corsi si articolano in quattro anni e nella scuola insegnerà anche il padre abbate di Monte Cassino, Donato Gliari. La scuola è diretta da Franazzario Vasciarelli, frate Cappuccino, dottore in teologia specializzatosi in pastorale giovanile e catechetica presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma. I vigili del fuoco di Campobasso sono intervenuti oggi sulla strada Convento Sant'Angelo a Sepino per un'auto uscita fuoristrada e finita in un burrone. Il conducente, grazie all'aiuto di alcuni automobilisti di passaggio, è uscito dalla macchina ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 che nel frattempo era giunto sul posto e è stato portato in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco ha recuperato l'auto con un autogru e i carabinieri di Boiano hanno effettuato i rilievi. Oltre a un centinaio di imprenditori agricoli all'incontro organizzato dalla Col di Retti a Campobasso alla presenza dell'assessore regionale Nicola Cavaliere. Sentiamo. Rivalutazione del ruolo dell'impresa agricola, equilibrio e correttezza nei rapporti con l'agroindustria ma anche misure straordinarie da attuare per contrastare l'emergenza cinghiali e infrastrutture. Sono alcuni dei temi toccati nel corso dell'incontro a Campobasso che i dirigenti e i soci di Col di Retti hanno tenuto con l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Cavaliere. Sul tavolo dunque i problemi che riguardano il settore agricolo, gli imprenditori, i ritardi sui pagamenti delle varie misure del PSR, cosa fare, quali le priorità. Massimo impegno sulle misure straordinarie da mettere in atto, ha garantito Cavaliere. Non possiamo pretendere che le nostre aziende, tanto agricole quanto zootecniche, continuino ad operare sul territorio, hanno evidenziato da Col di Retti, se non vengono messe in condizioni di produrre, se sui nostri territori mancano le più elementari infrastrutture, a cominciare da quelle viarie. Bisogna che la regione, hanno aggiunto ancora da Col di Retti, si faccia carico di questi problemi e intervenga rapidamente per bloccare la chiusura delle aziende. In generale i giovani imprenditori hanno chiesto meno burocrazia e più velocità nei pagamenti. Un no forte e chiaro all'assistenzialismo, ma solo la necessità di poter lavorare al meglio, evidenziate anche le difficoltà di accesso al credito. Stiamo sbloccando diversi bandi inspiegabilmente fermi da tempo, ha detto l'assessore Cavaliere, e abbiamo accelerato le liquidazioni alle aziende. Annunciato anche l'inizio anticipato del prossimo PSR, che lo stesso Cavaliere auspica più vicino alle reali esigenze degli agricoltori molisani e meno complesso rispetto al precedente. Occorre fare squadra senza personalismi, ha concluso Trasparenza e Dialogo. Le parole d'ordine. Oggi la Presidente della Corte d'Appello, Rossana Jesu Lauro, e il Procuratore Generale Guido Rispoli hanno visitato il Comando Regionale della Guardia di Finanza. sono stati accolti dal Comandante regionale, il Generale Antonio Marco Appella, e dal Comandante provinciale di Campobasso, il Colonnello Maurizio Pasquale Favia. Appella ha illustrato l'organizzazione, le dotazioni logistiche dei reparti, le dinamiche operative, i risultati conseguiti. E su Laura e Rispoli hanno manifestato apprezzamento e gratitudine alle fiamme gialle, molisane per l'attività che ogni giorno svolgono a tutela dello Stato e dei cittadini. Presentate oggi al Museo Sannitico di Campobasso le due applicazioni del progetto Smart Cultural Heritage for All. L'idea messa a punto, apposta per il museo, è sviluppata proprio per utilizzare la tecnologia in un percorso multisensoriale, in particolare per le persone con disabilità, la scoperta della storia e degli oggetti nelle sale sannitica e medievale del Museo di Via Chiarizia. La realizzazione hanno partecipato l'Università del Molise, il Polo Museale, l'Eritage, il Centro Orientamento a Usili Tecnologici Onlus. Il cantautore italiano Mimmo Locasciulli è stato a Termoli per presentare il suo libro Come una macchina volante. L'incontro è stato organizzato dall'Associazione Casa del Libro. Ce ne parla Manuela Iorio. Sala gremita a Termoli per Mimmo Locasciulli, uno tra i più interessanti cantautori italiani che al Cinema Sant'Antonio ha presentato il suo libro Come una macchina volante. Il cantautore medico dal cuore nomade così lo ha definito la critica. Nomade perché nel suo percorso musicale ha incrociato e scambiato esperienze con grandi nomi della scena musicale italiana internazionale, passando dal folk al rock pop, ma anche al blues, al jazz e perfino all'elettronica, senza inseguire le mode e le sollicitazioni di mercato, ma lasciandosi guidare dalla sua ricerca e dalla sua curiosità. Locasciulli è stato ospite dell'Associazione Casa del Libro in un piacevole dialogo con il musicista termolese Mariano Gramegna ha affascinato il pubblico presente, ripercorrendo le tappe più significative della sua lunga carriera, divisa fra la musica e la medicina, come racconta nelle pagine del libro, dove pilota di un'immaginaria macchina volante ripercorre la sua vita con aneddoti divertenti. Non mi piace l'idea di dover naufragare nella vecchiaia, per cui cerco di mantenermi vivo. Il libro sì, è un momento di riflessione, di ripensamenti, di memoria. È uscito da due settimane il mio nuovo disco, Cenere, e faccio concerti, faccio presentazioni di libri, faccio il nonno, faccio il medico, e quindi insomma cerco di non annoiarmi in qualche modo. Sarà per le sue origini abruzzesi, il pubblico lo ha subito sentito vicino. Con la sua voce calda e con garbata ironia ha ripercorso le tappe della sua vita, tra i ricordi di infanzia, la curiosità per la vita e le sue passioni. Ma cosa pensa Luca Sciulli della musica di oggi? La musica è comunque musica. Io poi al di là dei generi, per me c'è la musica bella e la musica brutta. Per i miei gusti, quando ero più giovane, il 90% della musica era bella, il 10% della musica era brutta. Per quanto mi riguarda oggi, il 10% della musica è bella oggi, il 90% della musica non mi piace. A Ripalimosani al Via, la quinta edizione dei Mercatini di Natale, un percorso ricco di musica, colori e sapori. C'era per noi Valeria Farina. Una passeggiata da vivere totalmente immersi nella suggestione della musica e delle luci di Natale, ammirando le bellezze locali. È stata pensata così la quinta edizione dei Mercatini di Natale a Ripalimosani, da Piazza San Michele salendo per le monumentali scalinate e poi negli spazi del Palazzo Marchesale. Circa 40 espositori hanno presentato ai numerosi curiosi e appassionati il meglio dell'artigianato, della gastronomia e del made in Molise. Siamo giunti a questa quinta edizione, a Mercatini ai quali l'amministrazione crede molto, crede molto anche nel turismo. Infatti quest'anno abbiamo cercato di alzare ancora di più l'asticella sulla qualità, puntando sulla qualità di questi mercatini, sia dal punto di vista della location, col Palazzo Marchesale che ringrazio ancora una volta i proprietari del palazzo che ne hanno dato la disponibilità. In questo abbiamo accolto al proprio interno tutti i prodotti artigiani locali e anche extra locali, perché ci sono anche degli espositori, soprattutto alla provincia di Benevento. Quindi questo è un grande successo. L'iniziativa è stata promossa e organizzata dall'amministrazione comunale di Ripalimosani. Ogni anno vediamo che ci sono sempre più persone che chiedono di poter entrare all'interno del nostro mercatino e questo ci fa ben sperare. Vuol dire che abbiamo lanciato il seme, stiamo raccogliendo i frutti di questo seme. La gente è interessata a questo mercatino anche perché non lo possiamo negare, la vicinanza con Campobas è importante, perché tante famiglie sono venute oggi pomeriggio da Campobasso a catturare l'attenzione dei tanti visitatori non solo artigianato e prodotti di qualità, ma anche artisti di strada, sapori tipici e musica dal vivo. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.